Il lupo che viaggiava nel tempo Oggi lupo si mette a rovistare in soffitta. Trova sempre cose straordinarie, come questo libro dalla copertina dorata, per esempio. Incuriosito lupo afferra il libro e legge. Caro lettore, questo non è un libro come gli altri. Questo è un libro per viaggiare nel tempo. Se l'aprirai, ti immergerai nel cuore della storia, pagina dopo pagina. Buon viaggio! Ah, fosse vero, sospira il lupo. Come sarebbe bello viaggiare nel tempo! E apre il libro. Immediatamente viene attraversato da un fremito, dalla punta del muso alla punta della coda. E puff, lupo sparisce. Lupo apre gli occhi stordito. Ha funzionato! Non è più a casa sua, ma nella foresta tropicale. È tutto verde, fa caldo, un vero paradiso terrestre. Incredibile! Esclama lupo. Si arrampica su una roccia per osservare il pasaggio e... Ah! La roccia si stacca da terra. Aiuto! Urla il lupo. Benvenuto tra i dinosauri! Dice una voce profonda. Vuoi fare un giro panoramico? Lupo guarda sotto di sé e rimane agghiacciato. È seduto sulla testa di un diplodoco. Lupo si sta godendo la passeggiata, quando un ruggito spaventoso rompe il silenzio. A due passi da lui vede il più terrificante dinosauro di tutti i tempi, un tirannosauro. Mi dispiace, straniero, fa il diplodoco scuotendo la testa. Vuole tè per cena. Ma mi divorerà, grida lupo terrorizzato stringendo il suo libro. E mentre scivola verso le fauci del mostro, gira la pagina e... puff! Sparisce. Lupo riprende i sensi in una grotta. È coperto con una pelle ed animale. Ma... brrr! Che freddo fa! Benvenuto tra i croc magnon! Lo saluta un vecchio lupo. Gradisci un cosciotto di dinosauro? Uh no, grazie! Risponde lupo guardando disgustato la carne mezza cruda. Allora muoviamoci, andiamo a cacciare il mammut. Lupo sospira. Lui odia cacciare e poi ama i mammut. Non ha intenzione di contribuire alla loro estinzione. Ah, proprio no! E allora... puff! Lupo non c'è più. Stavolta lupo finisce nel cantiere di una gigantesca piramide. Ai suoi piedi sono state allestite tende colorate per accogliere il faraone d'Egitto in visita. Preparati, sta arrivando Tutankane! Gli sussurra nell'orecchio una graziosa danzatrice. Lupo comincia a suonare, ma lo fa così male che il re si tappa le orecchie. Questo musico ha offeso le orecchie del faraone, urla il visir. Datelo in pasto ai coccodrilli! Le guardie si avvicinano a lupo, ma... puff! Lui ha già voltato pagina. Quando lupo apre gli occhi si trova a Roma, sulla linea di partenza di una gara di carri. Lo stadio è pieno da scoppiare, si grida e si canta. Stavolta mi diverto, si rallegra lupo. Adoro le corse! Al segnale i carri scattano in avanti. Acclamato dalla folla, lupo conquista la testa del gruppo e sorpassa gli avversari, uno dopo l'altro. All'arrivo lo attende Giulio Cesare in persona. Onore a te, vincitore! Ora preparati ad affrontare il nostro più valente gladiatore, Marcus Magnus Luigius. Se vincerai il combattimento, sarai il mio nuovo campione. Molto gentile, ma detesto battermi, risponde lupo tirando fuori il suo libro. Sono venuto, ho visto e mi sono divertito, grazie. E... puff! Sparisce come per magia, lasciando Cesare stupefatto. È il più grande banchetto che lupo abbia mai visto. Allestita ai piedi del castello fortificato, la tavola è stracolma di carne ripiena, pasta al forno e dolci prelibati. Ecco finalmente un'epoca che fa per me, si rallegra lupo allungando la zampa verso una patata. Ma viene interrotto da un grido. Signore che sciagura! Vostra figlia è appena stata rapita dal drago! Tutti gli sguardi si rivolgono a lupo. Cavaliere, dice solennemente il signore, solo voi potete liberarla. Gli vengono portate le armi e il suo destriero. Lupo segue di malavoglia la folla fino alla tana del mostro. I draghi non esistono, spiega lupo tranquillamente avviandosi verso l'ingresso della grotta. C'è un grosso silenzio e poi... il mostro si lancia sul povero lupo che scappa al galoppo. A me urla il nostro cavaliere aprendo il suo libro e... uff! Lupo non c'è più. E non c'è più nemmeno il drago. Lupo si risveglia circondato da quadri e opere d'arte. Seduto dietro la sua tela, un vecchio lupo dipinge. All'improvviso qualcuno apre la porta urlando. Maestro Leonardo, ci riferiscono che Cristoforo Colombo ha scoperto un nuovo mondo. L'artista solleva il muso con aria sognante. Questo mondo si chiamerà America, amico mio. Ah, che epoca fantastica! Poi rivolge il suo pennello a lupo dicendo... Lascio continuare voi, caro allievo, io sono stanco. Assolutamente no, risponde lupo. Il genio siete voi, non io. E... uff! A Versailles c'è una festa danzante. Gli invitati in maschera passeggiano nei giardini del palazzo. La musica scorre a fiumi. Magnifico, vero? Dice un signore vestito d'oro accanto a lupo. Magnifico, maestà! Risponde lupo un po' intimidito, riconoscendo il re lupo quattordicesimo. A fianco del sovrano c'è una dama molto bella. Mi presento, Madame de Pompidou, dice sollevando la maschera. E voi chi siete? Il lupo guarda la lupa, gli ricorda qualcuno. E all'improvviso il suo cuore si infiamma e le gambe gli diventano molli. Mi concedete questo ballo? Balbetta arrossendo. Con piacere risponde la lupa. Guardi e prendete quel lupo, urla il re geloso. Che peccato, sospira lupo. Addio, Madame. E... puff! Sparisce in una nuvola. Che agitazione, che baccano, geme lupo tappandosi le orecchie. Ma dove sono finito stavolta? Viva la rivoluzione! Gli gridano alcuni contadini armati fino ai denti. Unisciti a noi, cittadino lupo. Andiamo a prendere la bastiglia. Lupo riflette un secondo. Che lui ci vada o no, la situazione si scalderà. Tanto vale eclissarsi. E... puff! Non c'è alcun rumore. Solo una scala di metallo immersa nella notte. Lupo scende prudentemente i gradini. Quando tocca il suolo si guarda intorno. Il paesaggio è lunare. Fa un passettino, rimbalza, ririmbalza. Sto camminando sulla luna, esulta lupo. Per la gioia lascia il libro e il libro si solleva in volo. Oh no, grida lupo. Si tuffa, afferre il libro che si apre e lupo viene inghiottito. Lupo finisce in un vortice di oggetti, volti, parole, epoche. Stop, grida, basta così. Voglio tornare nel mio bosco. Anch'io rugisce una voce molto vicina. Anche il dragone ne ha abbastanza. Bastava chiederlo, caro lettore, dice una voce divertita. E... puff! Lupo si ritrova seduto accanto al caminetto. Ma ha un bel cercare dappertutto. Non riesce a trovare il libro dorato. A quanto pare ho sognato, sospira lupo. Peccato, i miei amici sarebbero rimasti di stucco. Fine Fine